Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è venerdì 7 febbraio 2020 e siamo in diretta come tutte le mattine alle 7 per dare un'occhiata a sfogliare i quotidiani Carlino e Corriere Adriatico, l'edizione di Peso Urbino e uscire dunque informati con le notizie del giorno. Cominciamo come di consueto con il santo del giorno però, il santo di oggi è San Riccardo, è stato un re, facciamo gli auguri anche al nostro Riccardo, il regista e il sole sorgerà alle 7.18 e tramonterà alle 17.26. Andiamo a vedere il tempo, oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature minime che saranno in diminuzione, le massime invece aumenteranno, un po' di venti ma che da sud temporaneamente ruoteranno da nord-est nel primo pomeriggio. Durante la notte e in queste prime ore del mattino attenzione alle gelate nelle zone interne del fondo valle perché questa mattina alle 5.30 erano meno 1 per esempio qua a Fano, quindi insomma le temperature minime sono piuttosto rigide come è giusto che sia tra l'altro in questa stagione. Domani, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, aumento delle nuvole, medio alto soprattutto pomeriggio sera temperature in lieve aumento, attenzione alle gelate, mentre domenica, giornata che per noi a Fano è una giornata di carnevale, la prima domenica di carnevale avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, un po' di venti nell'entroterra, sud orientali soffieranno invece lungo la costa. Non c'è altro da dire se non che avremo ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato per l'inizio della prossima settimana probabilmente un peggioramento del tempo, lo avremo invece la prossima settimana intorno a mercoledì. I giornali, Corriere Adriatico, apertura dell'edizione di Pesaro per la zona traffico limitato, i parcheggi sono con il contagocce, sosta serale da liberalizzare, lo chiedono i residenti del quartiere centro, al comune di Pesaro, i posti sono troppo pochi rispetto ai residenti. Razzia catena, i ladri che continuano indisturbati a entrare in chioschi, bar, ristoranti, fanno di tutto di più ma soprattutto fanno danni perché non si rassegnano all'idea che dentro ormai i titolari non ci tengono più quasi nemmeno i fondocassa. Quindi ai ladri bisognerebbe scrivere un cartello fuori, non c'è il fondocassa, cosa è entrata a fare. Però spesso entrano anche per mangiare, come vedremo tra poco, mangiano quello che trovano, addirittura si sono messe a mangiare mozzarella all'interno di questo, per esempio, chiosco, che è un chiosco che i pesaresi conoscono molto bene, colpo in una rivendita anche di telefonia, oltre a rubare i soldi della cassa, danneggiamenti e bivacchi, appunto, come dicevamo, per mangiare. La prescrizione qui non esiste, sono i dati del Tribunale di Pesaro, una media di sette mesi per arrivare alla sentenza di primo grado. E poi la politica, con gli strascichi ancora, che riguardano l'ingresso della Frenquellucci, una pentastellata, forse in questo momento è sospesa, pentastellata che è entrata nella giunta di Ricci, guidata appunto da un sindaco del PD, tutta la giunta del Partito Democratico. Ebbene i grillini, quelli duri e puri, dicono dopo la Frenquellucci sarà il nostro anno zero. Traffico illecito di rifiuti, invece guai per l'ex sindaco di Fano, Francesco Baldarelli. È finita una maxi-inchiesta che riguarda i rifiuti a Perugia e a centro pagina i ladri scatenati in centro. Assalto a bar e negozi, qui la fotografia di Umberto Carriera, noto ristoratore davanti all'ingresso del suo bar, depredato in via delle gallerie. Notte di razzie dunque ancora a Pesaro. Urbino invece in balia dei vandali, danni a raffica. Il presidente dei servizi cittadini cancellieri dice abbiamo 100 telecamere, prima o poi vi prenderemo. Ed ecco la pagina di Fano che in esclusiva pubblica la notizia questa mattina, a firma di Roberto Damiani, sul traffico di rifiuti nel quale sarebbe coinvolto l'ex sindaco Francesco Baldarelli, che è finito, come dicevamo, nel mirino dei giudici perugini in una maxi-inchiesta che riguarda altre 90 persone. Intanto chi è Francesco Baldarelli, 65 anni, ex parlamentare europeo di sinistra dal 1994 al 1999 e soprattutto ex sindaco di Fano dal 90 al 92. È rimasto impigliato in questa inchiesta dei magistrati perugini in qualità di socio al 9%, ma di fatto gestore, di una società che si chiama Accord Phoenix Spa, con sede all'Aquila. È un'indagine che è partita dall'ottobre del 2017, quando nel porto di Livorno sono stati bloccati dei container, in partenza per l'Africa, che avrebbero dovuto contenere oggetti personali, ma che invece erano stracolmi di batteri esauste, pezzi di motori, eccetera, eccetera. I guai per Baldarelli erano scoppiati già nel 2017, sempre per quanto riguarda questa società, quando venne indagato per truffe, in quanto avrebbe ottenuto un finanziamento per 10 milioni di euro, soldi pubblici. Ma nel registro degli indagati, scrive il resto del carino questa mattina, ci sono anche dei pesaresi, titolari di una società che si chiama RAE Servizi SRL, e che era collegata con le ditte maggiormente coinvolte nel traffico di rifiuti. Va chiarito in particolare se queste persone, ufficialmente proprietarie della società, erano poi consapevoli di quanto accadeva nella realtà. Tra queste ci sono appunto questi tre nomi che il giornale pubblica questa mattina. Adescava le ragazzine sui social spacciandosi per una coetanea, si fingeva femmina, una si fingeva donna, in realtà era un uomo che cercava sui social, su internet, di entrare in contatto con delle ragazzine. Ora, ieri a Pesaro, in tribunale, è iniziato questo processo che vede un 45enne di origine svizzera, alla sbarra, con l'accusa di atti sessuali, con appunto queste minorenne, o perlomeno all'epoca dei fatti erano minorenne, oggi sono tutte maggiorenne, e possono dunque raccontare quanto ricordano di quella esperienza. E lei, una di queste ragazzine, una di queste bambine, dice avevo nove anni, ha detto in aula, ero a casa di un'amica, eravamo sui social quando una ragazza, che poi in realtà appunto era questo 45enne, oggi 45enne, all'epoca un po' di meno, ma comunque un uomo, che ci ha chiesto l'amicizia. Non abbiamo sospettato nulla, per cui abbiamo iniziato a parlare, ma poco dopo lei, lui, ha iniziato a chiederci delle foto strane, in cui avremmo dovuto mostrare le nostre parti intime. Dopo qualche tempo, sempre attraverso i social, ci hanno contattato di nuovo e ci hanno chiesto di attivare la webcam per vederci. E noi ci siamo fidate, pensavamo di avere di fronte una ragazza, ma una volta accesa ci siamo resi conto che dall'altra parte c'era un uomo. Così abbiamo subito messo il dito sull'obiettivo per evitare che ci vedesse. Però noi vedevamo lui. Lui com'era? Certamente non in giacca e cravatta, era nudo e faceva le sue cose. E da lì poi tutto il racconto che troverete sul giornale di questa mattina. Il ladro seriale, invece, dei locali non si ferma. Ride nella notte nei chioschi e nei ristoranti. In centro appesero nuove razzie con bivacchi e danneggiamenti. Colpo anche in un negozio di telefonia, come abbiamo visto. Nella notte, tra mercoledì e giovedì, hanno fatto visita al bar Piadineria Chiosco nella zona di Piazzale Cinelli, vicino all'ospedale. Qui hanno forzato una porta, sono entrati all'interno mettendo tutto sotto sopra. All'interno hanno trovato soltanto qualche spiccio. Lo avete, chi ha visto il telegiornale, ieri sera abbiamo intervistato il proprietario, il titolare di questo chiosco. Hanno forzato la cassa e preso circa 600 euro. Ecco, in questo caso, quei 600 euro forse sarebbe stato meglio non tenerli. Ma comunque, hanno pensato bene, lo sfogo poi del titolare sui social, che dice, hanno pensato bene di rifocillarsi con mozzarella, wafer e aranciata. E il secondo furto dice che subiamo in un solo anno. Poi i ladri si sono spostati di pochi metri in via Venturini, sempre a Pesero, dove hanno preso di mira il ristorante La Mosteria di Mare. E anche qui il titolare, quando ha scoperto di essere stato vittima di furto, ha scritto sui social e ha detto, stanotte sono venuti i ladri al ristorante, che hanno sbaraccato tutto. Ma cosa pensavano di trovare, scrive, poveri scemi. E poi tutto il resto dell'articolo sul Corriere Adriatico. Corriere Adriatico che di taglio basso si occupa del coronavirus. Ieri c'è stato un convegno organizzato dalle farmacie comunali di Pesero sul tema coronavirus. Cosa c'è da sapere? Nella sala del Consiglio Provinciale. Ora, è stato un incontro interessante, lo abbiamo seguito anche noi come Fano TV e c'era anche Luca Ceriscioli, il governatore delle Marche, che ha detto anche i casi che sono stati visionati non erano comunque a livello di guardia, ma si è tuttavia preferito tenere un'attenzione elevata. E dunque continuiamo con una forte comunicazione nei punti più sensibili come all'aeroporto di Falconara, dove verrà misurata la temperatura a tutti i passeggeri in coordinamento con le direttive nazionali. Dunque, massima attenzione. Trappola durante un percorso. Qui si parla di una storia, quella di una donna di 51 anni, amante della bicicletta. Si chiama Cinzia Santini, la vedete qui in condizioni poco piacevoli. È stesa a terra, è appena finita a terra, soccorsa dagli uomini del 118, perché è finita con la sua bicicletta su una tavola chiodata. Una tavola con dei chiodi che durante un raduno ha provocato questo incidente a San Lorenzo di Trea, dunque nel Maceratese, a questa donna appassionata di questo popolare sport su due ruote. Mentre percorrevo, dice, un sentiero in discesa, all'improvviso sono incappata in questa trappola collocata lungo il percorso in un punto in cui non era possibile avvistarla per la caduta. Poi un malato di mente che sferra un pugno, tramortisce un infermiere, poi scappa, paura all'alba in psichiatria, le ricerche non hanno avuto esito, il protagonista ha 25 anni ed era ricoverato da tre giorni all'ospedale San Salvatore. Tutto questo nel reparto di psichiatria, anzi non del San Salvatore, chiedo scusa, nell'ospedale di Muraglia, dove era appunto ricoverato questo giovane di 25 anni. Anche qua le fotografie del ride in via Galligari, rubati cellulari e soldi, colpiti un kebab, un negozio di telefonino, un ristorantino in via Venturini, un bar in piazza Cinelli, scippato anche un ventenne, insomma sembra di essere nel Bronx. Danneggia e ruba, invece, siamo ad Urbino, un angelo di Natale, uno studente che però è stato incastrato dalle telecamere, un poliziotto ha riconosciuto il giovane per strada, custodiva l'opera, pensate, in camera. Cosa ci farà con questo angelo che prima gli ha dato un calcio, l'ha portato via, poi l'ha tenuto in casa? Forse si era pentito, lo stava... E comunque denunciato dalla polizia di Urbino. Urbino. Anche il resto del Carlino si riferisce di questa notizia qua di taglio basso, ruba un angelo di Natale, denunciato uno studente, lo aveva preso a calce, se l'era portato a casa, ma la polizia lo ha riconosciuto, recuperando l'addobbo, è un addobbo natalizio, nella sua camera da letto, mentre cancellieri, che vedete qua nella fotografia, che è presidente di Urbino Servizi, ex sindaco di Fermignano, area leghista, le 100 telecamere di Urbino Servizi riprendono i responsabili mentre distruggono i bagni pubblici e imbrattano i parcheggi. Guardate come hanno ridotto, per esempio, questo bagno pubblico, hanno spaccato tutto. Siamo costretti, dice i cancellieri, a spendere migliaia di euro per rimediare i danni di questi sciagurati, colpevoli che sono stati ripresi dalle telecamere. E dice lui, prima o poi vi becchiamo, prima o poi vi prenderemo. Cresce l'appeal, siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, l'appeal delle materne comunali, meno nascita ma aumentano gli iscritti, rispetto all'anno scorso le statali perdono 82 bambini, soddisfatto l'assessore Mascarin, ora riduciamo, dice, i costi della mensa. Il Vescovo di Fano invece incontra i malati negli ospedali, Monsignor Trasarti porterà conforto e speranza a chi soffre nelle strutture di Fano, Fossombrone, Pergola e Cagli. Palazzo del Carnevale apre i battenti, la città dà inizio alla sua grande festa, il Via alle 16.30 con i bambini, alle 19 l'inaugurazione e una serata all'Inferno di Giorgio Colangeli, l'attore tra i protagonisti della Kermess. Alle 21 al Caffè Centrale, il primo appuntamento con le immagini, gli scatti di 100 fotografi. E tra le fotografie certamente quest'anno non c'è tanto da riprendere al Pincio, perché Pincio restaurato, sappiamo, bellissimo, anche di notte con una bellissima illuminazione, ma insomma adesso in questo periodo carnevalesco il Pincio è stato attrezzato con i giochi per bambini, con dei bagni chimici, gli spettacoli viaggianti, un piccolo Luna Park. Insomma il Pincio così deturpato è l'affronto alla bellezza, scrive il Corriere questa mattina. Mentre sulla questione dell'ex ferrovia Fano Urbino continua il dibattito a distanza, a seconda delle associazioni che intervengono su chi è favorevole sulla pista ciclopedonale, chi è favorevole ovviamente al ritorno del treno sulla tratta. Insomma smettiamola di giocare, questo è il titolo, con i trenini, sì alla ciclovia con un'annessa tubazione. Orlando, geotecnico della SNAM Progetti, lavorò alla tratta di smessa Trento Bolzano. Vi spiego come attiverei la ferrovia. Si dovrebbe fermare a ogni intersezione, oggi ce ne sono 100, e poi andrebbe a gasolio. Sulle perdite occulte di acqua, diciamo tre volte no, il Forum Provinciale dei Beni Comuni chiede ai sindaci di bocciare la proposta di Marche Multiservizi, Aset e Ato numero uno. Ora non possiamo soffermarci troppo, però in sostanza, secondo quello che dice questo forum, pare che, stando così le cose, modificando un po' il regolamento, eccetera, a pagare queste perdite occulte, alla fine dovrebbero essere i cittadini e non le aziende. Ora ne parleremo domenica sera nel corso del processo al Carnevale, durante la prima puntata. C'è questa canzone che è stata fatta, è stata realizzata per il Carnevale come sigla, non come inno, attenzione, non facciamo confusione. L'inno è sempre lo stesso, l'inno è quello che dice, è quello della Borghetti Bugaron Band, davanti ai pacassuri col carri, la la la, quello è l'inno e quello resta perché è bello, orecchiabile, eccetera. Però siccome quest'anno il tema del Carnevale di Fano è il riciclo, la differenziata, i rifiuti, il pianeta, la natura e tutte queste cose qua che comunque c'entrano appunto con l'ecologia, qualcuno ha pensato di fare questa canzone a tema, il cui risultato sta facendo discutere. Qualcuno dice è bello, fa una risatina, altri dicono per carità, non mi pare, come dice Stefano Marchigiani, che sia, che questa hit scalerà le classifiche. È vero, l'ho vista poco fa in versione integrale, ma di questo ne parleremo poi in maniera dettagliata domenica sera, ascoltando un po' le varie campane e cercheremo di capire come si è arrivati a questa canzone che si intitola La differenziata e dove dentro non c'è nemmeno la parola carnevale. Ci sono parole come cacca, popò e qualcos'altro, insomma, ecco. Però bisognerebbe ascoltarla, ve la faremo ascoltare certamente e poi ne parleremo durante il processo. La polemica sugli anziani invece, sempre che riguarda il Carnevale, la Gian Marioli, la Presidente Replica, sapete la polemica, l'abbiamo letta ieri sui giornali attraverso poi ripresa da Facebook, la Deborah De Angelis, che è la responsabile della Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova di Fano, aveva detto che in sostanza, insomma, si sentivano poco graditi come anziani al Carnevale. E qui diceva, insomma, lei che c'era rimasta un po' male e quindi da lì era scoppiata un po' anche lì una mezza polemica. E qui c'è la risposta questa mattina della Maria Flora Gian Marioli. Maria Flora Gian Marioli che risponde dunque alla responsabile De Angelis. Torniamo sul Corriere Adriatico. ZTL, basta caccia al posto auto, la sosta serale va liberalizzata. La richiesta del quartiere centro all'amministrazione guidata da Ricci, sono troppo pochi posteggi rispetto ai residenti. Il modello è il tratto di corso 11 settembre, già sperimentato, ma la fascia oraria dovrà essere più ampia. Per quanto riguarda invece il decoro e l'arredo urbano, va istituita una commissione, un sopralluogo dei consiglieri di quartiere, per elencare le criticità su cui intervenire. Sul nuovo ospedale invece nessuna accelerazione di Ceriscioli. Ceriscioli che tenta dunque così di driblare le polemiche. Il bando affidato a Marche Nord sarà la SUAM a gestire la gara, ma tace sulla revoca della delibera 141. E poi ancora dai quotidiani, Talè, sempre a proposito di sanità, questa volta però andiamo a Fossombrone, dove Federico Talè, consigliere regionale di Italia Viva, dice che il piano sanitario garantisce un punto di primo soccorso. E aggiunge, gli ospedali di Fossombrone, Sasso Corvaro e Cagli avranno un medico emergenze per 24 ore, mentre a Cagli centro analisi gratis per tutti i volontari. È stato attivato in via Alessandri con una macchina innovativa che dà risposte praticamente all'istante, immediate. Tornando a Pesaro, la politica fuori dai 5 Stelle pure i consiglieri hanno sostenuto la Franquellucci, dunque l'ex capogruppo va all'attacco e dice anche noi e Ballerini abbiamo ottenuto risultati, ma restando comunque all'opposizione. Quindi criticano l'ingresso della Franquellucci in giunta. Sul coronavirus, la psicosi, si batte a tavola, guardate questa fotografia, si tratta di alcuni pesaresi che sono andati a cenare, a pranzare in un ristorante cinese. Medici, artisti, altri lavoratori, alla serata organizzata al ristorante Meilin, la testimonianza della cameriera cinese che dice a volte mi scansano, dicono si fanno da parte perché hanno paura di essere contagiati. Niente di più stupido ovviamente, anche perché vive a Pesaro come tutti gli altri, quindi non ha nessun contatto. L'altro giorno in un bar mi siedo vicino ad una ragazza, questa si spaventa e fugge via addirittura. Siamo a stile i velli. Convegno per smontare le bufale e in aeroporto controlli della febbre. Anche qui si parla dell'incontro che c'è stato nella sede della provincia. Da ieri a Falconara si monitora la temperatura dei passeggeri che sono in arrivo. I farmaci, dice Cantoni, i test per quanto riguarda i farmaci sono ancora troppo ridotti. La Cina avete letto, abbiamo visto tutti quanti, hanno già detto l'altro giorno che hanno trovato due medicinali che funzionerebbero contro l'influenza. Ma in realtà l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto no. Fermi tutti, ancora siamo lontani da questo risultato. Pian del Bruscolo, fine settimana più sicuri, accordo siglato sul servizio notturno. Ora, a Vallefoglia, il sabato e la domenica la pattuglia della Polizia Locale sarà attiva dall'1.15 di notte fino alle 7.30 del mattino. E questa è una buona notizia per quelli di Vallefoglia, perché comunque avere una pattuglia che presidia il territorio di notte, soprattutto il sabato e la domenica, è un buon risultato, è una buona cosa. Dalla Valle Metauro, da Fossombrone, il restauro, grazie all'Art Bonus, rinasce la balaustra del loggiato, eccolo qua nella fotografia. Lo splendido manufatto si aggiunge agli interventi e ai recuperi della quadreria. Ancora dalla pagina della Valcesano, del Corriere, l'ospedale diventerà un cronicario, è scritto nel nuovo piano sanitario, l'opposizione pergolese insiste, dice Ceriscioli si trincererà dietro il decreto 70 e non riconoscerà l'area disagiata. Amandola ha compreso la trappola, qui il PD e i suoi rappresentanti continuano a mentire. E ancora, interventi per la banda ultralarga, siamo a Marotta, è ora di sapere quando finiranno questi però interventi. Il comitato chiede la convocazione di un'assemblea pubblica, il sindaco Barbieri l'aveva promesso. Sotto invece di gestore a Barchi, siamo a Terre Roveresche, deciderà la popolazione, dice il sindaco Antonio Sebastianelli che annuncia, come l'ha già fatto nel nostro telegiornale qualche giorno fa, la convocazione di un incontro con i residenti appunto del comune di Terre Roveresche. Da Senigallia arrivano tre nuovi poli scolastici, qualità e servizi e sicurezza per gli alunni, verranno realizzati a Marzocca, Saline e Cesanella. Il sindaco dice diamo continuità agli ultimi dieci anni. Complesso di Sant'Agostino, andiamo a Cantiano. Ecco i soldi per il restauro, dalla regione arrivano 350 mila euro per riqualificare la storica chiesa di Cantiano, altro finanziamento per la messa in sicurezza della Sala Capponi. L'ultima pagina della nostra segna stampa la dedichiamo a Letizia, che è la rivelazione pesarese a Sanremo. È la vocalist che è cresciuta in città, il suo nome d'arte è Maria Antonietta, ieri ha cantato con Levante. Sul palco da oggi anche la fidanzata di Valentino Rossi. E dunque queste sono le fotografie di questa ragazza di cui si parla nel giornale di questa mattina. Prima di salutarci volevo ricordarvi alcune cose. Allora che domenica sera, come abbiamo detto, c'è il processo al Carnevale, processo che va in onda ormai da diversi anni in concomitanza con le sfilate domenicali del Carnevale e quindi avremo alcune novità. La prima, innanzitutto, questo piccolo concorso anche noi l'abbiamo pensato fotografico utilizzando l'applicazione Instagram, tutti ormai pubblichiamo fotografie. Bene, con l'hashtag Carnevale TV potete partecipare automaticamente ad un piccolo concorso. Ecco, il nostro Riccardo ci fa vedere anche la schermata, un piccolo concorso con dei premi che vi metteremo a disposizione, quindi giudicheremo la fotografia, lo scatto più carino, più bello e alla fine della serata vi diremo appunto chi ha vinto. Poi c'è da dire che il Carnevale di Fano anche quest'anno sarà trasmesso in diretta alle 15 con una telecronaca di circa un'oretta che vi darà la possibilità perlomeno di vedere i carri, soprattutto quelli nuovi e quindi di vivere l'atmosfera del Carnevale nella prima fase, la prima fase quella iniziale, non certamente quella del getto e poi, come dicevo, il processo adesso alle 20.45, al quale potete anche voi partecipare mandando segnalazioni utilizzando WhatsApp oppure intervenendo al numero di telefono che ormai conoscete bene. Non c'è altro, quindi mi fermo qui, vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.